Si fa sempre più strada l'ipotesi della dolosità per il gravissimo incendio verificatosi ai danni di una postazione radio-televisiva del gruppo Telenorma a Parabida. Il sopralluogo di una truppe tecnica dell'azienda ha potuto infatti rilevare che la recinzione è stata divelta in un punto da cui con tutta probabilità qualcuno potrebbe essersi introdotto sul luogo dell'impianto. Il fumo è stato segnalato da un tecnico della Wind che si era recato nella stessa località in collina con le passo per effettuare manutenzione ai propri apparati. Ha allertato quindi subito i vigili del fuoco di Gallipoli che sono intervenuti sul posto. Per poter effettuare il sopralluogo i caschi rossi hanno dovuto rompere la parte superiore scorrevole che consente di accedere al piano interrato e forzare altre due porte in ferro, una delle quali consente l'accesso al locale interessato dal fuoco. Nell'immediatezza non è stato rilevato alcun elemento utile per risalire all'origine dell'innesco. Solo in un secondo momento l'arrivo dei tecnici del gruppo Norba ha consentito di verificare che la recinzione era stata manomessa. Per questo, non avendolo ancora verificato, i carabinieri si mantengono cauti ma è facile presupporre che il fuoco si sia propagato dall'esterno verso l'interno. Certo è che il danno è notevole e ammonta circa un milione di euro. Sul posto sono intervenuti anche il personale dell'ufficio tecnico comunale e i vigili urbani che hanno dichiarato inagibili locali. Danneggiati infatti tutti gli impianti di trasmissione del sito che copre un bacino di utenza di circa un milione di abitanti tra la città di Lecce e tutta la provincia, i carabinieri dovranno ora compiere ulteriori indagini anche sulla base della relazione tecnica dei vigili del fuoco che sarà stilata solo nelle prossime ore.